Il maltempo di questi giorni sicuramente sta creando nella città di Sarno qualche fibrillazione. Devo dire che abbiamo attivato il COC sulla base dell'avviso medio che ci ha fatto il Dipartimento della Regione Campania di Protezione Civile. Al momento non si riscontrano problemi legati alla circolazione del tipo allagamento di strade, sottopassi o smottamenti o frane, ma si è riscontrata chiaramente un'esondazione del fiume Sarno in tre punti della città che sono Carrara Porto, via Beveraturo e via Cognulo. Queste sono a ridosso di poche abitazioni che abbiamo provveduto ad allertare la popolazione ma non provocano disagi all'altra parte della popolazione. Non ci sono state le condizioni per una chiusura delle scuole o degli uffici e stiamo tenendo la situazione sotto controllo di vasche e canali. Cercheremo di verificare di volta in volta l'adozione dei provvedimenti, però al momento la criticità è legata solo all'esondazione del fiume Sarno.